Zona Lega Pro, rubrica cura di Federico Mancini Cari amici di Sottoportashow, benvenuti alla rubrica Lega Pro Allora per questa settimana analizzeremo il profilo del Piacenza Calcio 1919 E enuncieremo i vari giocatori, il Piacenza tra i portieri Castrati, Elkan Castrati Albanese proveniente dalla Pescara Primavera Poi come difensore si annovera Matteo Abrate, squadra precedente del giocatore Era il Pavia, sempre in difesa il Piacenza annovera Giuseppe Costinone Ex Foggia, difensore E poi abbiamo Alessandro Castellana, anche suo difensore Squadra precedente in cui ha militato era la Reggiana Altro giocatore da segnalare è Matteo Colombini Confermato quest'anno in difesa Oltre a Diego De Cecco Per quanto invece attiene l'aria che sono i centrocampisti Abbiamo Gianluca Barba proveniente dalla Pescara Così poi abbiamo Alessandro Cazzamili Cazzamaili, italiano purissimo che è stato confermato Nella linea del centrocampo abbiamo anche Saber Raicic Anche se il nome è staniero, il giocatore è nato a Mazzara del Vallo Anch'essa un centrocampista Da segnalare anche Nicola Salavigna Un centrocampista dell'Atlanta Primavera Che quest'anno il Piacenza annovera tra le sue file E per quanto riguarda invece l'aria che è l'attacco Abbiamo Michele Cesana Attecante proveniente prelevato dal Folgole Caratese E poi abbiamo Gabriel Debuli Attaccante croato proveniente dal Torino Primavera Altro attaccante è Stefano Franchi Quest'ultimo confermato Così come Luca Matteazzi E poi altro attaccante Andrea Razzitti Proveniente dal Catanzaro Da rilevare che la squadra del Piacenza Annovra tra le sue file Un portiere di grande esperienza Atlanta, Roma da ricordare Poi un infortunio lo bloccò Nel seguito dei suoi anni calcistici Poi ha ripreso la sua attività Ed è stato ingaggiato dal Piacenza Dopo un trascorso nel Vicenza E quindi per questa settimana Per zona Lega Pro Abbiamo esaminato il profilo del Piacenza Calcio 1919 Che è rubto? Ciao a tutti